rieccoci rewind facciamo come se fossimo milanello anche se evidentemente non sono più a milanello volevo soffermarmi ulteriormente sui concetti del video espresso a milanello tranne che su uno perché per fatto personale racconto tutto con la massima schiettezza con la massima trasparenza per fatto personale ho dovuto cancellare il video precedente perché in un caso che mi risulti ma la grande maggioranza dei commenti vostri verteva su altro però in un caso sono stato messo in mezzo sui social in un modo che francamente ho ritenuto un colpo basso in un modo che non mi piaceva qualcuno sosteneva che tutto il senso del mio video precedente ci ho dedicato 30 secondi su 10 minuti fosse che secondo me era tutta colpa di una talpa all'interno dello spogliatorio beh no signori beh no beh no ho sostenuto ben altro e fra poco lo ricorderò nel video di poco fa non ho puntato il dito contro nessuno e non ho voluto chiamare in causa particolarmente nessuno dico semplicemente che dal mio punto di vista molto personale se volete anche ammetto un po egoistico di chi vive dall'altra parte della barricata rispetto a tanti altri giornalisti che fanno molto bene il loro lavoro alle prese con le notizie c'è in qualche caso l'esigenza ripeto magari un po egoistica sempre nell'interesse della squadra e sempre per tutelare la squadra rispetto ai rumors mediatici alla vigilia di una parita importante magari di una maggiore riservatezza di una maggiore permeabilità delle cose che si dicono all'interno del club all'interno dello spogliatorio ma so anche bene che nel 2020 l'informazione ha un flusso così veloce l'informazione ha una reattività e le notizie hanno una reattività così veloce una capacità di trapelare così veloce che naturalmente rispetto a dieci anni fa viviamo in un'altra era per cui non dobbiamo evidentemente stare a soffermarci su questo però preferirei visto che il video di prima non c'è più ma questo lo vuole richiamare ed è convinto di quello che sostenevo poco fa i concetti che avevo espresso in precedenza e cioè che il fatto principale che riguarda il milan è che in cinque giorni dicasi cinque giorni la società ha preso atto della controproposta economica da parte della squadra sul taglio degli stipendi ed è andata a milanello e l'ha accettata cinque giorni cinque giorni cinque io non so che cosa accada negli altri club che cosa sia accaduto o non sia accaduto negli altri club non sono casa mia non è affar mio non ne parlo però al milan è successo questo e non mi sembra di poco conto la critica che il milan oggi deve affrontare è che bisognava andarci prima milanello bisognava parlarci prima con la squadra è la critica naturalmente del 10 giugno dell'11 giugno lo sarà magari anche di domani 12 giugno perché noi siamo abituati a perdere un po il filo della memoria il calcio oggi è così intenso ce lo siamo detti tante volte che un giorno di calcio mediatico un giorno di comunicazione calcistica è come dieci giorni di una volta per cui tendiamo a non ricordarci quali erano le priorità di due tre mesi fa e le ricordo senza voler fare il primo della classe il milan come tutti gli altri club italiani la roma l'inter la juventus ha fatto semplicemente tutti gli altri club l'atalanta il proprio dovere le curve ultra di tutta italia si sono date da fare anche nelle realtà minori ho letto di cose bellissime rimini a foggia e in tanti altri posti però due tre mesi fa le priorità erano fare le donazioni economiche per consentire ai medici agli infermieri di avere più strutture più dispositivi di protezione la priorità due tre mesi fa non solo per il milan ma per tutti i club italiani era donare le mascherine la priorità era magari consentire agli abbonati over 65 come ha fatto il milan entrare in possesso di un pacco di generi alimentari le priorità due tre mesi fa erano queste perché se noi pensiamo che due tre mesi fa in quel clima nel clima del lockdown nel clima di tante immagini lugubri che lugubri che abbiamo visto in tv la priorità del milan dovesse essere assolutamente discutere il proprio progetto i propri ingaggi i propri programmi i propri piani futuri con la squadra beh insomma adesso per tutti c'è l'esigenza ma due tre mesi fa saremmo stati un po fuori dal tempo saremmo stati un po molto poco in sincronia con quello e in sintonia con quello che in realtà stava accadendo nel mondo in realtà stava accadendo nella vita di tutti noi e poi la mia opinione la ribadisco se anche il milan e i giocatori avessero ritenuto che potesse esserci il clima due mesi fa per parlarsi un'intesa probabilmente la più veloce possibile come già accaduto ieri sul taglio degli ingaggi sarebbe stata trovata subito però il tema della squadra probabilmente il desiderio della squadra con la massima sincerità e con la massima schiettezza quella che ha avuto ibra quella che hanno avuto altri giocatori perché quello di ieri non credo sia stato un confronto solo ai vangazzi di zlatan ibrahimov ci sono state anche domande interventi da parte di altri giocatori perché poi personalizzare il confronto significa strumentalizzarlo significa stressarlo significa magari come ho visto fare da qualche parte oggi usarlo per un regolamento dei conti invece devo dire che sulla gazzetta dello sport ho letto delle cronache tutto sommato equilibrate di quello che è accaduto ho apprezzato in maniera particolare per quel che vale per quel che conta il lavoro di carlos passerini del corriere della sera che ha dato atto alla squadra di essere intervenuta in modo appassionato accorato intenso ed è un fatto positivo questo vedere una squadra che prova sensazioni che le esterna che le condivide che si mette in gioco è una cosa positiva però il corriere della sera e carlos passerini hanno dato atto anche a ivangazzidis e alla società di aver risposto di aver risposto in maniera calma in maniera lucida non ci sono stati rigidimenti ieri non ci sono stati impuntature c'è stato un confronto che probabilmente entrambe le parti avevano bisogno magari più la squadra questo non lo so di fare già da tempo quindi ieri o due mesi fa o tre mesi fa un mese fa sarebbe stata assolutamente la stessa cosa perché già da tre mesi era in corso a tambur battente il rullo mediatico sul futuro del milan la panchina l'allenatore il progetto il mercato i cambi la rivoluzione ripartire da zero eccetera eccetera è un tema che di cui si parla nel milan dal punto di vista mediatico sul milan e attorno al milan ormai da quasi quattro mesi e quindi sarebbe stato lo stesso confronto anche fatto in in precedenza per cui ecco da questo punto di vista credo sia giusto ritenere e lo ribadisco quello di ieri un punto di ripartenza non un punto d'arrivo perché non c'è stato stallo perché c'è stato dialogo perché la società e la squadra si sono entrate negli occhi ed è entrando ed entrando reciprocamente negli occhi che si fa famiglia si costruisce feeling si stabilisce una sintonia naturalmente le opinioni possono essere diverse ma le opinioni fanno parte delle persone fanno parte della vita insomma l'unanimismo non esiste più da nessuna parte ritrovarlo nel calcio rischia di essere in questo momento pura utopia per cui ripeto tifosi del milan evidentemente adesso vogliono vedere la squadra finir bene la stagione e questa è la priorità totale e assoluta ed è naturalmente lì che ci si misura e che ci si pesa come sempre è chiaro che nel dare una notizia importante nel costruire una giornata mediatica attorno al milan ci sono state anche nella giornata di ieri ma non voglio fare assolutamente pagelle non mi permetto strumentalizzazioni regolamenti di conti da qualche parte invece cronache equilibrate dando atto in maniera corretta e cronistica dello spirito del confronto dando atto alle parti di quello che effettivamente è accaduto nella giornata nella giornata di ieri ripeto con la massima sincerità e schiettezza da parte della squadra e con la massima calma e lucidità nelle risposte da parte della società questo è stato il clima di ieri poi naturalmente ci aspetta il campo ci aspetta un avversario durissimo ci aspetta un finale di stagione complicato e ci aspettano anche ancora rulli di tamburi mediatici perché fa parte un po del milan e nel destino del milan essere sempre al centro delle cose essere sempre al centro della situazione però ripeto i fatti sono che in cinque giorni la trattativa sull'ingaggi al milan è stata chiusa e i fatti sono che c'è stato un confronto schietto da ambo le parti di cui c'era bisogno da tempo l'avevo già capito l'avevo già capito un po nei giorni scorsi c'era stata una corrispondenza da parte dell'ottimo pepe di stefano di sky da milanello quando diceva è qualche mese che la società non si presenta a milanello avevo capito che era diciamo un pensiero un sentimento un uno spunto un guizzo che partiva dal cuore della squadra del resto milanello è e resta centrale nel milan milanello è resta la storia del milan milanello è resta il cuore pulsante della società e della storia rossonera per cui quando da milanello inizia a levarsi un sentiment milanello sa come recapitarlo e sa come farlo arrivare non appena c'è stata la possibilità da parte della società di poter rispondere in tempi brevissimi perché cinque giorni di questi tempi sono un periodo molto breve alla controproposta della squadra la risposta da parte del milan c'è stata il resto sono interpretazioni sono opinioni in qualche caso forzate in qualche caso si mettono nel mucchio tante cose leggevo oggi il milan adesso va a torino dio con gli squalificati non sarà gli squalificati purtroppo non sono colpa del del confronto di ieri e dopo una striscia di risultati negativa è vero che sulla striscia di risultati pesa il pareggio di firenze in superiorità numerica ed è vero che c'è stato secondo tempo nel dermi ma il 2020 del milan complessivamente deve e può essere considerato un un inizio anno assolutamente positivo è chiaro che non possiamo sostenerlo solo a parole ma dobbiamo sostenerlo sul campo con le partite a partire dalla gara con la juventus scusate per il fatto personale ma quando si viene messi in mezzo ben al di là delle proprie intenzioni ben al di là del proprio spirito della propria costruttività e ben al di là di quello che si voleva dire beh insomma c'è un modo anche per tutelare se stessi e mi perdonerete su questo però il senso lo spirito dell'intervento precedente credo di averlo rispettato e chi ha visto entrambi lo può dire anche in questo video ciao a tutto in un proseguimento ci vediamo domani dopo la parita fra juventus e milan ciao